Ma certo, perché se no lui tutte queste segnalazioni che ha, che peraltro, ripeto, vanno tutte all'antimafia perché sono state accentrate, e poi ha accesso a informazioni e poi fa la parte politica. Ad oggi manca la legge, andrebbe fatto una legge che dice se hai maneggiato dossier e inchieste importanti devi aspettare cinque anni. Perché se no diventa poi quello che vediamo e poi ne va di mezzo la magistratura. Non è che da questa cosa ne esce male tanto la politica, ne esce male la magistratura. Io poi mi sento quasi sfigato perché sono uno dei pochi che per ora non è stato spiato. Adesso aspetti a dirlo perché sono 33.528, mi auguro che qualcosa sia... Se non sono nei 33.528 mi deprimo, io voglio solo affermare... Pensavo dicesse mi dimetto, invece mi deprimo.